Allora Maroni ha detto, un appuntamento ovviamente molto importante, scriveremo una nuova storia per la Lombardia con la possibilità di tenerci le risorse che ci servono per fare tutte le cose che dobbiamo fare. Che vorrebbe dire muovere l'economia, che vorrebbe dire anche investire in tutte quelle infrastrutture che porterebbero comunque un investimento di cui andrebbe a beneficiare tutta l'Italia, non solamente il Veneto e la Lombardia. Voglio dire una cosa però sul DASPO, sono velocissima, il DASPO di fatto, messo da Minniti, non serve a niente perché non riusciamo a dare i fogli di via alle persone che sono nelle città, non pensiamo che lo sindaco, sono le cose annunciate, in realtà bisogna ritrovare l'equità sociale e la sicurezza, che sono due cose distinte ma correlate una all'altra. Se non c'è una c'è il problema con l'altra perché senza l'equità sociale si vedono tutte le tensioni che stanno lasciando nelle periferie e non solo, fra i cittadini che si sentono gli uni diversi dagli altri. Questo è il problema, soprattutto i cittadini italiani verso gli immigrati per cui, soprattutto i nuovi arrivati, la sinistra sta trovando tutto e i fondi per tutto.